Adesso chiamo Flavia, Flavia Franzoni, qui come Ires, presidente ex di Rettri, ma beh, insomma, sicuramente un pezzo della storia dell'Ires, Flavia l'ha seguita, ma ha seguito anche Augusto probabilmente molto prima. A Flavia abbiamo chiesto una riflessione sul lavoro sociale e sui nuovi modelli di organizzazione dei servizi alla persona. Pensando ad Augusto però. Ecco, vi sembrerà strano, ma anch'io che sono economista ho scelto il mio ambito di lavoro a causa di Augusto, perché mi sono trovata ad insegnare una materia che poi si chiamò economia sociale, poi organizzazione dei servizi, eccetera, in una scuola per assistenti sociali, si chiamava appunto Ires, di cui Augusto, come avete sentito stamattina, è stato direttore dal, io dico 72-77, perché in realtà lui lo pensava già nel 72, ma guarda caso c'era un altro combattente delle cause perse, Gigi Pedrazi, che ha fatto un po' da direttore e ha salvato questa scuola che stava avendo molti problemi. In un momento molto particolare e ricco di dibattito, culturalmente ricco, del percorso delle riforme dei servizi sanitari, sociali ed educativi del nostro paese e della nostra regione. Giuseppina Speltini stamattina ha parlato di anni gloriosi, ci sentivamo tutti molto entusiasti e combattivi. erano negli anni in cui a livello nazionale appunto si stava preparando la riforma sanitaria e la riforma psichiatrica, che sarebbero andate in porto nel 78, erano state approvate le leggi sui consultori sulle tossicodipendenze, circa nel 75, e si era in attesa della riforma dei servizi sociali, che arriverà solo nel 2000, ma che le regioni anticiparono i comuni con molte leggi e sperimentazioni. Si andava lavorando su alcune parole chiave, che poi sono quelle che ci ritroviamo ancora nelle sfide di oggi, intorno ai temi della prevenzione, della lotta all'emarginazione, si diceva allora, oggi diremmo lotta all'inclusione, che allora voleva dire soprattutto, l'abbiamo sentito prima, deistituzionalizzazione e perciò la scoperta dei servizi domiciliari, in qualche modo come emblema di questo periodo. Oggi parleremmo di inclusione attiva delle persone fragili, sono cambiati un po' i vocabolari, ma diciamo gli intenti sono sempre quelli. Centrale era anche il tema della partecipazione, le parole chiave che si trovavano in tutti i documenti, che ancora oggi sono collegati molto a quello di cui stamattina abbiamo parlato come lavoro di comunità. li ritroviamo quando cerchiamo di andare a ricostruire oggi, che cos'è il lavoro di comunità. Poi c'era lo strumento per fare nuove politiche, che era il decentramento delle competenze ai livelli istituzionali più vicini al cittadino. Ecco, a livello locale si stavano sperimentando i consorzi sociosanitari, che Augusto studiò molto e su cui, vero Guido, anche la sua famiglia era non poco impegnata, tra comuni e provincia, che mettevano insieme le originarie funzioni, i che significava i primi tentativi di integrazione tra servizi sociali e sanitari. I consorzi furono l'anticipazione delle USL. Ecco, la garanzia, e poi finisco con le parole chiave, che della corrispondenza del nuovo sistema ai bisogni delle persone era la programmazione. Altra parola magica, che dopo anni di frammentazione del sistema e rimborsi spese a piedi lista, diventava appunto non solo uno strumento di politica, ma uno strumento di lavoro degli operatori. Bene, in questo contesto di cambiamento, il cambiamento che avete visto è istituzionale, è un cambiamento organizzativo, le alz, vedremo qualcos'altro, valoriale ed etico anche, che metteva al centro i diritti delle persone. E qua la parola persona, sappiamo in che accezione la usava Augusto Palmonari. In questo quadro vedeva come imprescindibile il cambiamento della formazione degli operatori. per insieme adattare le figure professionali ai nuovi contesti che si andavano formando, ma anche rendendoli agenti di cambiamento. Qualcuno parlò degli operatori come agenti politici in quegli anni, se vi ricordate. Ecco, Palmonari, con la collaborazione di molte che stanno qua dentro, anche smontò con non poco coraggio e qualche critica l'impianto didattico delle scuole per assistenti sociali tradizionali. Vi dico in breve, poi mi fermi quando mi passi il tempo, in breve i punti che ricordo così. La scuola Ieres, alla scuola giunse un quarto anno, che ancora adesso qualche assistente sociale ci maledice di aver fatto un anno in più, alla formazione degli assistenti sociali, utilizzando, pensate, i primi finanziamenti europei, perciò era anche una persona molto operativa, Augusto, proprio destinato ad attrezzare gli operatori sulle tecniche della programmazione. Erano gli anni in cui la fondazione Zankan aveva tradotto il libro Teorie e pratica della pianificazione sociale di Alfred Kahn, che poi entrò nelle biblioteche di tutti i corsi di lavoro per assistenti sociali. Chiamò di insegnare esperti che stavano collaborando alla riforma sanitaria a Roma in regione, che fu poi approvata appunto nel 78, epidemiologi della scuola di Macacaro, soprattutto esperti di organizzazione dei servizi, cito Carlo Trevisan e Ferdinando Terranova, che proprio erano in regione a costruire le nostre ASL, in qualche modo. Abolì i famosi monitori della scuola, cercando un percorso dentro l'istituto di psicologia, che non so poi com'è andò, ma di far andare in gruppi gli studenti, per mettere appunto in gruppo il farsi della propria professione. E poi realizzò delle cose, per esempio, nella formazione permanente. Io qui voglio ricordare un megacorso per tutti gli operatori dei consultori familiari della regione, che appunto è un corso che attuava in qualche modo, che sosteneva l'attuazione della legge sui consultori, che era passata nel 75, in cui furono coinvolte ancora una volta insieme operatori sociali e sanitari, vi parlo dei primari anche, non solo degli infermieri, ancora una volta, otto seminari di tre giorni l'uno a Cesenatico in un anno. Cioè pensate che investimento si facevano allora nella formazione, che matteva appunto il tema della prevenzione, perché i consultori erano questo, e l'integrazione tra servizi sociali e sanitari. Ricordo anche un'attività di ricerca che mi fece fare insieme a Simonetta Andreoli, del comune di Bologna, sull'analisi costi-benefici del gruppo appartamento, conseguenti alla chiusura dell'istituto di Casaglia. I bambini erano passati sul territorio, un po' in assistenza domiciliare, un po' nei gruppi di ammamento, ci fece fare dei conti per capire e dimostrare che conveniva, oltre che essere meglio. Ecco, tutto questo per dire che per Augusto la formazione, perché in queste cose venivano poi anche coinvolti gli studenti, era un investimento per il cambiamento. E la cosa che Augusto curava, e che credo un po' di aggiungere in questa fase, è quella del rapporto con le istituzioni, che c'era a volte critico, ma era fortissimo. Augusto ha contribuito alla costruzione del modello di welfare dell'Emilia-Romagna. Non ha solo sostenuto delle relazioni. Voglio citare anche un altro tassello. Io, Bruna e Graziella abbiamo in questi anni partecipato a un progetto che è finito un po' nel nulla, del piano strategico metropolitano, che si chiamava Welfare Empowerment. Ci siamo trovati a invitare la donata Francescato, e mi è venuto in mente che Augusto, quando donata tornò dall'America, la invitò per gli studenti in quegli anni a parlare di psicologia di comunità. Cioè, aveva in qualche modo anche travisto, intravisto una nuova trasformazione del welfare, che era quel famoso welfare municipale e comunitario, con la mobilitazione delle risorse di cui abbiamo tanto parlato oggi, che è la formuletta che descrive appunto quanto si è voluto realizzare con la 328, in cui le relazioni comunitarie diventano risorsa per il welfare. Augusto, dunque, ha realizzato tutto questo con un'attenzione costante al concreto dei servizi, che forse gli veniva anche da Gabriella, che era un'assistente sociale abbastanza, diciamo, rilevante in quegli anni nei servizi per le nauli prima e per l'infanzia a Bologna. Perciò aveva anche un confronto casalingo su questo. Ecco, perciò, cambiamento, investimento in formazione. Come va oggi questo rapporto? Beh, di formazione adesso mi sembra che ce ne sia molto meno, ma c'è un problema anche sul cambiamento, che non è quello che ha descritto il vecchiato, che vede un cambiamento futuro nel welfare generativo, ma è una modifica strisciante del welfare, una trasformazione strisciante, in cui aggiungiamo la parola welfare sempre i nuovi aggettivi, non solo comunitario che ci siamo abituati, è welfare di prossimità, è welfare azionale, è legato alla responsabilità sociale d'impresa, è welfare culturale, cioè tanti aggettivi che indicano che cosa? Delle nuove risorse che dovrebbero andare nel welfare, ma attenzione, che se queste risorse non sono aggiuntive, ma sono sostitutive di quelle risorse pubbliche, perché abbiamo combattuto in quegli anni là, si va verso un welfare, diciamo così, a consunzione, come diceva prima, vecchiato, e un welfare, per dirci, alla rega, in cui il pubblico interviene solo, quando tutte le altre risorse di un sistema non ce la fanno. In questo quadro si dovrebbe intervenire con la formazione, e qua ci sono dei timidi tentativi, su cui però credo che proprio le vostre materie dovrebbero studiare molto, perché in questo quadro c'è, innanzitutto si chiedono agli assistenti sociali e agli educatori di coordinare tutte queste risorse sparse che arrivano sui nostri territori, nell'ambito di una governance di sistema che è diventata molto complessa, le aspe, mica le aspe, le ognuno dei comuni, e tutte quelle robe lì, no? E si chiedono anche delle cose nuove gli operatori, di, uso le parole, accompagnare le persone fragili in percorsi di inclusione attiva, per esempio il recentissimo REI, il reddito di inclusione, prevede un patto tra beneficiari, brutta parola, e gli operatori, in cui gli operatori devono accompagnare, oltre che a dare il contributo, anzi il contributo viene dato se il beneficiario mette in gioco le proprie risorse, accompagnato e aiutato dai servizi e dall'operatore. Perciò questa parola accompagnamento, la parola mediazione, si chiede agli operatori di mediare nell'ambito di interventi che sono complessi, pensate all'housing sociale, si chiede agli operatori di andare a mettere d'accordo le persone in questo nuovo modo di rispondere ai bisogni della casa. Facilitazione, lavoro di comunità, tutte robe che vi riguardano, e su cui c'è una domanda di formazione, ci sarebbe bisogno. Ma quello che abbiamo imparato da Augusto, fin dall'esperienza dei tempi dell'IRES, è che il cambiamento, ha certamente bisogno delle scelte politiche, e questo non c'è dubbio, ha bisogno del cambiamento del lavoro degli operatori, che non devono essere troppo gelosi del loro specifico professionale, e qua ci sono tutti i problemi dei rapporti tra assistenti sociali ed educatori, ma ha bisogno anche di modelli organizzativi adeguati. Si parlava di modelli organizzativi nel titolo. È inutile parlare di lavoro di comunità, che devono fare gli operatori, se non c'è un modello organizzativo del servizio sociale territoriale e dei servizi in generale, che diano non soltanto ore, ma possibilità di avere interfaccia tra servizi diversi, per esempio con gli uffici del lavoro, se non c'è un modello organizzativo che consente queste aperture, questi accompagnamenti. Non ho tempo per entrarci, ma questo credo che da quell'esperienza dell'Iris ci vende, ci vende, perché lui era preoccupatissimo di quale modello organizzativo andavano gli operatori. Chiudo con una riflessione. Queste cose sono ancora lontano dal welfare generativo, che pure deve diventare una dimensione di tutte queste robe qua, di cui parlava vecchiato. E il problema, ha molto ragione, che è un problema di potere. Io lo vedo in questi giorni, quando si discute di questo famoso patto che gli operatori dovrebbero fare con gli utenti per poter accedere al reddito di inserimento, di inclusione, scusate. Ebbè, questo patto, è un patto fatto di doveri e di diritti. Ma se siamo ossessionati dai doveri, che è quello che gli assistenti sociali, che poverette, hanno anche il problema di controllare, si pongono adesso. Più che dai diritti. E lo gestiamo, non con un rapporto di fiducia, ma con un rapporto di potere, questa roba qua diventa anche rischiosa. Perciò, da Augusto, prenderemmo quest'altra parola, rapporto di fiducia, tra le persone, non diciamo neanche utenti, e gli operatori, che è necessario perché un po' di welfare possa funzionare. Grazie. 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 Grazie.